È nata ufficialmente nell'Alto Garda l'Associazione Culturale Giacomo Floriani, sorta anche in previsione delle celebrazioni dei 50 anni dalla morte del poeta Rivano, il cui anniversario cadrà nel prossimo 2018. Principale scopo è quello di promuovere la riscoperta e la conoscenza della parlata dialettale, non solo alto gardesana, con tutto quello che ne consegue. Uno dei principali obiettivi è quello di far intitolare una via di Riva del Garda a Giacomo Floriani. In programma poi la realizzazione di un libro che celebri degnamente l'importante anniversario, il coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie per portare il dialetto in classe ed infine organizzare incontri sul territorio a mo' di filò e altre cose ancora. Il primo presidente è Livio Parisi, in quanto grande appassionato e cultore di Giacomo Floriani e per tutto quanto ha fatto in suo ricordo, come l'essere riuscito ad intitolare la scuola per ragionieri e geometri di Riva del Garda al poeta Rivano. Fanno poi parte del direttivo Alessandro Parisi, Mauro e Fabio Galas e Rita Pellegrini. Nei prossimi giorni sarà indetta l'Assemblea sociale per concretizzare gli impegni individuati dal direttivo. L'Associazione fa appello a tutti coloro che amano il dialetto locale affinché si facciano soci, portando la loro passione, il loro impegno a sostegno degli obiettivi dell'Associazione. Quest'idea è nata da tutti quelli che amano Giacomo Floriani e hanno riscoperto la sua poesia e la sua grande capacità di trasmettere a tutti noi i sapori, i profumi, gli odori, i colori della natura. Io l'ho conosciuto quando ero bambino all'Albola, terra rivana, quando passava con la sua pipa in bocca e lo zanno a spalle e di lì mi sono innamorato di questo personaggio poeta che poi ho scoperto dopo, più avanti. Circa 30 anni fa l'intitolazione dell'Istituto Floriani, l'Istituto Tecnico di Riva, grazie anche al suo interessamento, e adesso nuove iniziative per celebrare il cinquantesimo della morte che sarà nel 2018. Certamente, e questo fa molto piacere, perché oltre all'intitolazione della strada a Giacomo Floriani, noi vorremmo anche inserire nelle scuole, nelle primarie, secondarie e superiori, inserire proprio la conoscenza del dialetto, che è l'espressione più pura, più autentica della nostra autentica cultura locale. Floriani, essendo stato un grande uomo, direi l'arte di Floriani è la pittura, la cultura, la scultura, tutto quanto, i profumi della natura, però ha anche una grande filosofia, che la filosofia vera e autentica è quella dei poveri, dei poveri in senso positivo ovviamente, e lui diceva, come filosofia sua personale, che è anche la nostra, la mia e quella che auspico sia di tutti, magno, bevo, sbisego e me la godo, e lasso che il mondo il vaga a suo modo. Ciao Giacomo, grazie, sei un grande.